Buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV, questa è la Rassegna Stampa Occhio ai Giornali che comincia subito con il Santo del Giorno, vediamolo con l'aiuto della grafica, oggi è Santa Maria Goretti, il sole è sorto alle 5.31 e tramonterà alle 20.54, ancora tanto caldo per oggi, questa è la giornata che ci attende con cielo sereno, temperature elevate a quest'ora, alle 7.30 sono già 25 gradi, pensate già alle 3.59, alle 4 di questa mattina erano 22.06, quindi toccheremo temperature vicine ai 33-34 gradi, per oggi, dicevo, il tempo sarà bello con condizioni di stabilità, sole su tutta la costa, temperature in aumento, la stessa cosa per domani, martedì 7 luglio, avremo cielo sereno poco nuvoloso, soltanto qualche addensamento più consistente sui rilievi durante le ore più calde della giornata, temperature ancora in aumento, il mare quasi calmo, poco mosso durante le ore pomeridiane. Le condizioni di questo tempo saranno stabili anche nei prossimi giorni, per il resto della settimana con temperatura improbabile, graduale diminuzione da giovedì. C'è tanta cronaca questa mattina sui giornali che troverete come sempre nella vostra edicola di fiducia, tanta cronaca perché c'è quell'investimento mortale a Pesaro, di una donna di 59 anni che stava andando a lavorare in albergo, poi c'è quel ragazzo di 25 anni che si è ucciso buttandosi sotto ad un treno, ma vedremo tra poco anche altre notizie qua e là dalla provincia. E allora cominciamo dalla tragedia che ha colpito Pesaro nella mattinata di ieri. Quest'investimento è stato ritrovato, è stato individuato tra l'altro l'autista del BMW di colore verde che ha investito e ucciso questa donna di 59 anni. Il botto sveglia mezzo quartiere, abbiamo provato a rianimarla, raccontano i testimoni, i residenti che sono stati appunto svegliati e hanno capito subito che si trattava di un incidente, di un bagnino, di rianimare appunto questa donna. Siamo senza colleghi, raccontano, siamo senza parole, raccontano i colleghi sotto shock, la notizia c'è stata appena comunicata. E l'altra pagina del resto del Carlino invece racconta e ha raccolto anche una serie di testimonianze, anche una serie di dichiarazioni, non solo dei residenti, ma il Carlino ha raccolto anche lo sfogo del marito di Patrizia, Patrizia è la appunto donna che è stata uccisa, Patrizia del Bene, sposata con una figlia residente in zona 5 Torri. Il marito di Patrizia, Renzo Zonghetti dice al telefono, una persona viene ammazzata per andare al lavoro, io non ho più mia moglie e mia figlia Laura non ha più la madre. E Patrizia amava il suo lavoro e non disnegnava di iniziare presto ad andare a lavorare, ci andava presto perché, racconta il marito Renzo, doveva prima stirare, così preferiva andare quando ancora era fresco per poi andare avanti e fare tutti gli altri lavori. E le volevano molto bene, lei andava svegliandosi all'alba senza nessuna fatica. La BMW dicevamo è stata ritrovata a Monbaroccio, il 37enne si è consegnato in Abruzzo, Montesilvano di Abruzzo. E l'altra notizia come dicevamo è quel suicidio, il suicidio di un ragazzino, più o meno questi due incidenti sono avvenuti alla stessa ora, 5,5 in via Legorizia, 5,5 poco distante, un paio di chilometri, vicino via Bologna, all'altezza di via Bologna, sempre a Pesaro. Si getta sotto il treno a 25 anni, questo è il titolo sul resto del carino, forse una delusione d'amore all'origine della tragedia che, ripeto, è avvenuta alle 5,5, la notte scorsa con gli amici, poi all'alba la tragedia sul posto, la Polfer e il 118. Poi vedremo sul Correo Adriatico anche la foto di questo ragazzo e il ricordo degli amici. Luca Zingaretti, messo K.O. da un virus intestinale, pensava ad un colpo di caldo. Per Montalbano una flebo al pronto soccorso. Il celebre Montalbano è stato costretto ieri mattina alle 10 a ricorrere al pronto soccorso dell'ospedale per sottoporsi ad una visita avvertiva dolori, ma soprattutto debolezza, disidratazione. Pensavo ad un colpo di sole, ha detto Zingaretti, all'uscita dell'ospedale con un evidente cerotto al braccio sinistro. Ma poi, al termine delle analisi, la dottoressa mi ha detto che si trattava di un virus intestinale che a Pesaro di questi tempi sembra molto diffuso. Tant'è che la battuta è stata più difficile trovare un taxi piuttosto che prendere un virus come quello che ha preso lei. Poi, diciamo ancora cronaca, da Fano, a Punte Sasso, una ragazzina di 13 anni, si sente male nella vasca condominiale e adesso si trova ricoverata in rianimazione. Dopo un tuffo in piscina è successo. Era faccia in giù nella piscina condominiale esanime. È gravissima, ricoverata in rianimazione al Santa Croce di Fano, questa tredicenne di nazionalità senegalese affidata dai genitori e gli zii. La ragazzina ha rischiato di annegare all'interno di questa piscina a Punte Sasso, in strada litoranea al Civico 249. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Marotta. Poi sotto invece, guardate questa bambina e la gamba sinistra della mamma, sono state aggredite da un cane, madre e figlia. L'animale di grossa taglia è entrato in acqua puntando sulla famigliola. Una bimba di due anni è stata graffiata ieri mattina da un cane che è entrato in acqua di fronte alla spiaggia libera di Fano. L'ha salvata la mamma alzandola in alto e mettendosi a urlare. Pensate voi lo shock in quel momento. Racconta Alessandra Sasso, residente a Monteciccardo, la mamma appunto di questa bambina. Era la prima volta che io, mio marito e la bambina andavamo al mare quest'anno. Abbiamo scelto la spiaggia libera scendendo da Tano a Fano. Arriviamo, mettiamo l'ombrellone, dopo un po' entriamo in acqua e poi improvvisamente questo cane grosso, nero, entra in acqua e viene verso di noi. Poi c'è tutto il racconto che potrete leggere sul resto del calendario questa mattina. A Pesaro ancora festa del porto, Don Marco invoca il lavoro. L'omelia impegnata del sacerdote e poi l'uscita in mare e le corone per i caduti. Fiori a Fiorenzuola in ricordo della tragedia in cui morirono due bambini e un'accompagnatrice. Ancora vivo il ricordo di quella tragedia di Fiorenzuola, qualcuno probabilmente se la ricorderà. Apriamo adesso invece il Corriere Adriatico e andiamo subito sulla pagina di Pesaro per vedere la notizia appunto del suicidio. Si butta sotto il treno per una delusione d'amore. Shock per la morte di un ragazzo di 25 anni prima di scavalcare la staccionata in via Bologna ha inviato un sms al fratello, al fratello minore. È successo, come dicevo, alle 5.30 e si è buttato sotto un treno merci che transitava sulla linea cattolica Pesaro. Mancava soltanto un mese al suo compleanno. Era nato infatti l'8 agosto e aveva un buon lavoro. Faceva il meccanico nell'officina Ami di Urbino dove era stato assunto da poco nell'ultima selezione che l'azienda Adriabus aveva bandito sul territorio. Come dicevamo, Giacomo, questo è il nome del ragazzo che si è ucciso, eccolo qui nella fotografia, Giacomo Venturini, ha mandato questo sms al fratello e gli amici adesso dicono Sberla, questo è il soprannome con cui vieneva chiamato Giacomo, Sberla, non credevamo arrivassi a tanto. La famiglia di Giacomo era conosciuta, Candelara è a Pesaro, il padre Daniele è un carrozziere, la mamma Lucia Marchetti ha altri tre figli, il minore e due gemellini di circa otto anni. Giacomo viveva anche da solo e i familiari sapevano che poteva anche rincasare tardi, ma di certo non potevano immaginarsi un gesto così terribile. Sempre dal Corriere Adriatico a Fermignano muore mentre passeggia con i suoi cani. Isabella Gorgolini di 43 anni, stroncata da un infarto a Cafforzino, impiegata, lascia il marito. Questa mattina alle 10 l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Fermignano, la donna sarà tumulata nel cimitero del paese. Dunque sempre dal Corriere Adriatico addio al Maestro Alberini, cavaliere della pasticceria, venerdì l'esequie nella chiesa di Sant'Agostino, si svolgeranno venerdì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Sant'Agostino i funerali di Costante Alberini, 73 anni, cavaliere del lavoro, deceduto sabato. Ciovedì sera sarà allestita la camera ardente all'obitorio di Via Lombroso e la sera alle 19 nella chiesa del porto sarà recitato il rosario. Di tutt'altro genere la pagina di Fano, tra saldi e spiaggia, domenica con il botto. Comercianti e operatori soddisfatti, la gente risponde, anzi c'è chi dice che la notte dei saldi a Fano abbia riscosso molto più successo della notte rosa che si è tenuta il giorno prima. Da Senigallia invece è prostituta minacciata con il coltello, il cliente si avvicina pretendendo una prestazione gratis, lei riesce a divincolarsi e a chiedere aiuto. Gli episodi di aggressione si moltiplicano nelle scorse settimane, è stata rapinata sempre a Senigallia un'altra prostituta di nazionalità nigeriana. Racconta invece una violenza subita ma poi resta nella stessa abitazione, cioè con l'ottantenne che l'avrebbe appunto, diciamo così, violentata insomma. Dalla pagina di Pesaro del messaggero, anche qui ovviamente in apertura la tragedia di questa donna di 59 anni, Patrizia del Bene, che è stata investita, mentre era in bicicletta tra l'altro, da questo BMW. Travolta e uccisa, caccia al Pirata, in realtà come abbiamo visto dal resto del Carlino, poi l'uomo si è costituito in Abruzzo, a Monte Silvano, praticamente alle porte di Pescara, qui ancora evidentemente non c'erano le notizie, non è arrivata la notizia, quindi si dice ancora e si scrive, scrive il messaggero, si cerca una BMW verde, ma in realtà la BMW l'abbiamo vista già sul carroattrezzi. Sulla Fano Grosseto chi la percorre sa di cosa sto parlando, sulla Fano Grosseto c'è il problema adesso dei lavori sul ponte e poi delle code, delle code che inevitabilmente si formano a causa dei tanti automobilisti che vengono dal, per esempio anche ieri, ieri mattina, non tanto ieri mattina ma al ritorno, ieri sera, insomma tante code lungo la superstrada all'altezza di Sant'Ippolito per esempio, ma anche più avanti perché sono diversi i punti in cui ci sono queste interruzioni. Quindi fermi in coda sotto il sole per andare al mare è il ritratto di un'entroterra della provincia semisolato in cui i cantieri delle strade interne scanditi da semafori bloccano il flusso di chi arriva da Gubbio e dalle zone interne per andare al mare, cosa che si ripete puntuale la sera appunto per il rientro. Qualcosa sembra sbloccarsi con qualche soluzione tampone ma anche questo fine settimana è ancora il serpentone di Lamiera a colorare l'asfalto bollente della Flaminia e della superstrada Fano Grosseto. Anche qui a centropagina l'ultimo sms poi si butta sotto il treno. Un giovane di 25 anni ha perso la vita gettandosi sotto un treno ieri mattina all'alba a pochi chilometri dalla stazione ferroviaria di Pesaro. Poi si parla sul messaggero della nazionale sorde. La bella favola arriva ai mondiali, la squadra di pallacanestro nata a Pesaro si sta facendo onore in questi giorni a Taiwan. Cinque anni fa si è partiti dal niente, ora il brutto anatroccolo è diventato un cigno. Attenzione al caldo record, domani il picco. Sono le previsioni del meteorologo, del messaggero che avverte che sulla nostra regione le marche, il caldo continua e continuerà lentamente a crescere. Le temperature massime hanno localmente superato i 35 gradi in alcuni fondi valli, ma praticamente ovunque i termometri hanno toccato o superato i 30 gradi. Notte tempo, diverse sono risultate le località costiere e collinari nelle quali si è verificata addirittura una notte tropicale. Attenzione anche ai tassi di umidità che aumentano e dunque avremo temperature prossime superiori ai 40 gradi centigradi. Ancora dal messaggero qui tante fotografie e il racconto dettagliato dell'incidente che c'è stato ieri mattina, poi la festa del porto e sotto ancora l'ultimo messaggio, poi si getta sotto il treno. Ancora chilometri di code per i cantieri sulle strade, Odissea sulle strade del mare, anche ieri chilometri di code sulla Framinia e sulla Fano Grosseto a causa di tanti lavori in corso che paralizzano la circolazione. Per chi viene da Gubbio e dall'interno la spiaggia è un miraggio. Anche i sindaci di Cagli e di Cantiano sono impegnati a trovare soluzioni. Poi c'è stata una scossa di terremoto ad Apecchio, un risveglio piuttosto brutto, brusco per i residenti della zona che alle 7.03 sono stati ridestati dal movimento tellurico. È una scossa di magnitudo 3,4 della scala Richter e ha interessato anche le zone confinanti e quindi le regioni di Toscana e Umbria. La notte dei saldi a Fano fa il pieno e supera anche quella rosa. Primi bilanci per questa iniziativa sullo shopping seguito dal capodanno dell'estate, quindi dalla notte rosa. L'associazione Apriamo il Centro però tirerà le somme oggi per decidere se sciogliere oppure continuare questa iniziativa. Drudi alla CGL, la crisi c'è, la crisi economica, ma non siamo alla Sud. Il Presidente della Camera di Commercio sull'analisi fatta nei giorni scorsi dal sindacato. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito. Le notizie locali tornano questa sera alle 20.30 con tutti gli aggiornamenti nel corso del nostro telegiornale e poi vi ricordo che è iniziato, ieri l'abbiamo trasmesso alle 22 circa, forse qualche minuto prima, il Papa in questo viaggio apostolico molto lungo in Ecuador e non solo, quindi lo seguiremo ovviamente come facciamo di consueto. Oggi pomeriggio la diretta è prevista intorno alle 18, quindi ci sarà la prima diretta, poi però gli orari sono un po' così così perché il fuso non ci viene in aiuto, quindi il secondo collegamento è intorno alle 2 di notte e poi alle 3, 3 e mezzo. Però non preoccupatevi per chi ama seguire il Pontefice, ovviamente abbiamo previsto anche le repliche in orari per noi più consoni, quindi repliche sia su Fanotv sia su Televoce Cristiana. Ed è tutto, buona giornata e arrivederci.